Garibaldina Cristo Re Il Big Match di giornata vede la capolista solitaria ospitare la sorpresa di queste prime giornate. Si preannunciano gol e spettacolo. Leno Montebaldo. Già tre punti separano le due squadre, ma la classifica può essere Beffarda. Si affrontano due squadre molto equilibrate. Vedremo chi avrà il guizzo decisivo. Marco Trambileno. Trasferta difficile a Marco per la Trambileno, che affronta una squadra che dà sempre il 100%. Cosa ci attende oggi? Sacco San Giorgio dell'Asiana. L'unica squadra ancora a zero punti va sul campo di chi arriva da 5 gol subiti. La mancanza di sicurezza e potrà offrirci scenari molto interessanti. Spormaggiore Valpeio. Se i locali arrivano da una bella vittoria, il Valpeio deve rimettersi in riga dopo la brutta battosta contro l'Aleno. Pronostico sbilanciato? Forse. TNT Montepelle Razzurra. Finalmente gli ospiti dati per favoriti vorranno avviare una striscia positiva dopo la crisi iniziale. I nonesi saranno così disposti a cedere facilmente? Volano Aldeino. L'altra sorpresa del campionato ospita una squadra molto debole in difesa. Se il punto forte del volano è l'attacco, beh, ci sarà certamente da divertirsi.